Si è tenuta il 25 settembre, presso la Prefettura di Napoli, la sottoscrizione del protocollo di legalità in materia di appalti e assegnazioni di beni confiscati alla criminalità organizzata. Tragro rinasce la Regione Campania, il Comune di Torre Annunziata e la Prefettura di Napoli. L'accordo è finalizzato a rendere più stringenti i controlli antimafia e anticorruzione, nell'ambito degli appalti, per gli interventi di ristrutturazione e di manutenzione per la riconversione e la gestione dei beni confiscati, che il Comune di Torre Annunziata ha concesso e incomodato d'uso ventennale al Consorzio. Nel momento in cui il Sindaco ha deciso poi di firmare questo protocollo, noi comunque subito ci siamo attirati con la concessione di beni confiscati. Ne abbiamo presi già sette, stiamo lavorando per prenderne altri venti che verranno utilizzati per finalità pubbliche e sociali. Si avvierà un lavoro importante che coinvolgerà anche il terzo settore, ma coinvolgerà anche le istituzioni locali, coinvolgerà la Chiesa, perché a noi quello che interessa è che questi beni diventino opportunità per il territorio, sia da un buddista sociale che da un buddista pubblico e in alcuni casi quando lo consentirà anche da un buddista produttivo, perché per noi la creazione di lavoro, soprattutto dei giovani, diventa sempre un elemento essenziale. Un lavoro che è stato fatto con la Commissione straordinaria di Torra Annunziata e che oggi abbiamo perfezionato attraverso la sottoscrizione di questo protocollo con Agro Rinasce, Comune di Torra Annunziata, una persona del Sindaco, la Prefettura e la Regione Campania, una persona dell'assessore alla legalità, Prefetto Morcone, che è un segno importante per questi territori. Cioè significa che l'utilizzo, il corretto ed efficace, efficiente utilizzo di questi beni confiscati diventano segnale e testimonianza di legalità. Tanti beni confiscati che finalmente avranno una accelerazione nella loro destinazione, perché l'uso sociale, l'uso corretto di questi beni è davvero un segno di forte legalità. La firma oggi di questo protocollo di legalità contro la annunziata segna il passaggio, voglio dire, fuori dalla provincia di Caserta dell'attività di Agro Rinasce, segna soprattutto la crescita della valorizzazione del riuso dei beni confiscati, che è una pietra miliare della lotta alla criminalità. Era una settimana particolare perché noi abbiamo celebrato Giancarlo Siani, non l'abbiamo voluto celebrare come spesso accade soltanto il giorno, l'anniversario della morte, ma l'abbiamo cominciato il 19 settembre, che è il giorno della sua nascita, inaugurando il nido a Torre Annunziata, e poi abbiamo partecipato alla celebrazione della Meari a San Giorgio a Cremano, ma penso che si dovesse terminare la settimana con un'azione importante e penso che lo strumento, il patto per la legalità, sia proprio quell'azione necessaria per ricordare in maniera concreta Giancarlo Siani. Questa firma di stamattina, che ha un'importanza veramente enorme, simbolica, fortissima, per la prima volta entra in un comune della provincia di Napoli, quale Torre Annunziata, che ha un cospicuo numero di beni confiscati, quindi è veramente molto, molto importante. Io ci metto la faccia e il mio nome, proprio perché, almeno dove ho abitato, a Caserta, insomma, mi conosco e, insomma, ha una valutazione positiva del mio operato, quindi è come se fosse, perciò ho accettato, perché ci credo in questo e penso che la legalità non debba poi rimanere soltanto un concetto astratto, come l'ho detto anche in un'altra occasione, ma debba diventare un sentire interiore, no? Il rispetto della regola. Cura in maniera veramente, c'è l'anima di Agro Rinasce, devo dire che l'amministratore delegato Gianni, il dottore Allucci. E questo protocollo, ad esempio, ne è un esempio, nel senso che quando poi si procede a gare, a conferimenti, bisogna rispettare tutta una serie di procedure. Ovviamente questo rallenta di molto, e poi l'iter, perché ci sono una serie di, come in Italia, siamo pieni di burocrazia, però questo è uno di quei casi in cui vale veramente la pena, perché ci sono dei controlli molto stringenti sulle persone che, quando si fa la gara, chi la fa, come si fa, e le graduatorie. Quindi danno una certa, come dire, garanzia che non rientri dalla finestra ciò che è stato cacciato, perché il problema sono le infiltrazioni, gli prestanome, quindi su questo c'è le indagini, quelle interdittive su ogni azienda. Quindi c'è un controllo abbastanza penetrante.